Nel frattempo fa piacere sottolineare che questa settimana, proprio da domani, inizierà la messa in sicurezza del tratto nord di Viale Italia con ulteriori attraversamenti pedonali rialzati che stanno funzionando bene nella parte a sud. Il tratto nord di Viale Italia quale sarebbe? A partire dai pancaldi, il primo sarà fatto ai pancaldi, poi davanti a Puccinella, quindi davanti alla terrazza Mascagni, via del Forte dei Cavalleggeri e vicino a via dei Funaioli in corrispondenza con il liceo del Vico.